Il termine inglese dolciario è confectionary, in Italia i prodotti da forno talvolta non sono considerati nella pasticceria anche se dal punto di vista dell'immaginario collettivo chiaramente sono nel dolciario, per questo che aggiungo questo piccolo capitolo sulla pasticceria industriale, quindi su pochi prodotti in particolare, parlerò solo del panettone, del pandoro e del lievito madre che serve per produrre questi due prodotti. Cosa ci chiede il mercato? Il mercato ci chiede prodotti sempre più grossi, con un volume specifico maggiore, con un'assai impression maggiore. È chiaro che questo volume ottimizzato verso il valore più elevato dipende dal processo, perché mentre un chilo di volkorn può occupare ben 14 litri, è chiaro che un biscotto più di 2 litri non si riescono a fare, quindi secondo il processo noi possiamo ottenere prodotti più o meno voluminosi. chiaro che al top, a parte il porcone e il riso soffiato, abbiamo le meringhe. Le meringhe sono leggerissime, hanno per un chilo si riesce a fare 6 litri di volumi e poi man mano scendiamo nei diversi prodotti da forno. Prima di parlare del panettone dobbiamo però chiarire bene quali sono i mezzi per ottenere lo sviluppo di un prodotto, per ottenere la lievitazione. Allora, per primo abbiamo la lievitazione biologica, cioè che è dovuta a dei microrganismi, in particolare dei lieviti. E qui c'è sia il lievito compresso, il lievito di panificazione, che il lievito naturale o il lievito madre. Attenzione, dobbiamo sempre ricordare che è bene avere la pompa che ci gonfi l'impasto che è dato da lievito, ma la camera d'aria non deve avere fori, quindi anche la capacità di trattenere i gas da parte della farina è fondamentale. Poi abbiamo delle lievitazioni che io chiamo chimica, cioè c'è una reazione tra un sale acido e il bicarbonato, quello che si ottiene nella chi usa le acque, le polvere scusate, per fare l'acqua frizzante. Lì abbiamo una reazione di bicarbonato con un acido, insolito l'acido tartarico, che reagiscono in presenza d'acqua e producono ovviamente del gas che è la CO2. Un'altra lievitazione chimica si ottiene per decomposizione. Il bicarbonato d'ammonio, se in presenza d'acqua e scaldando, si scompone in CO2 e ammoniaca e quindi anche questo fa aumentare il prodotto. Un altro tipo di lievitazione, di aumento del volume di prodotto è dato dall'inglobamento d'aria, caso tipico la meringa. Noi abbiamo dell'albume, dello zucco, sbattiamo, 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 otteniamo un grande inglobamento d'aria con uno sviluppo enorme del prodotto iniziale. Ovviamente questo è il metodo tipico del pan di Spagna. Poi abbiamo una lievitazione dovuta al vapore aquio. L'acqua passa lo stato di vapore e aumenta il suo volume. Quindi tipico è la pasta sfoglia. In le foglie cosa è fatto? Un impasto di acqua e farina, uno strato di grasso, uno strato di acqua e farina. L'acqua che c'è nell'impasto tende a passare in forno lo stato di vapore, tende a aumentare il suo volume. Trovando questo strato pseudo impermeabile di grasso, fa sì che il prodotto aumenti il volume ma che la struttura sia tipicamente lamellare. Il begnè è un altro caso di lievitazione con vapore acqua. Si fa un impasto caldo, quindi si gelifica il nostro impasto che trattiene enormemente il gas che si forma all'interno cuocendo e quindi noi otteniamo un prodotto come una palla con dentro un grosso foro. Poi ovviamente abbiamo i sistemi misti come quelli di pasta danese, alcune merendine, il croissant, tanto il croissant italiano, tanto per essere semplici, è costituito da degli impasti di pasta lievitata e strati di grasso, strati di pasta lievitata e strati di grasso. E poi ovviamente abbiamo il couscous e la pasta che non sono lievitati. Quindi noi che gas abbiamo per far sì che aumenti il volume del nostro prodotto? Abbiamo detto che abbiamo la CO2 che deriva dal lievito e deriva dal bicarbonato di sodio. Attenzione che la CO2 è molto solubile in acqua, quindi quando sviluppa la CO2 una parte finisce nell'acqua, dopo quando non ce n'è più aumenta il suo volume o soprattutto quando va in forno. Poi abbiamo l'aria. L'aria invece è l'aria, nell'aria c'è una grande quantità di azoto, ma l'azoto non è solubile in acqua, no? Quindi questo rimane nella lievitazione, nell'aria c'è anche una certa percentuale di ossigeno che invece è consumato dai lieviti e quindi questa aria che rimane all'interno del prodotto poi in forno tenderà a aumentare il suo volume. Poi abbiamo eventualmente l'ammoniaca che deriva dal bicarbonato di ammonio. Anche l'ammoniaca è solubilissima in acqua, quindi se avete un prodotto che non diventerà secco, non sarà un biscotto che è a uno spessore di pochi millimetri e quindi tutta l'ammoniaca andrà via, anche perché è molto secco. Se avete per dire delle tortine, può essere un plum cake, dove abbiamo magari 10% di umidità o maggiore, sicuramente una parte di questa ammoniaca rimarrà intrappolata dentro, proprio per la sua umidità, dentro l'acqua. Quindi magari io che sono un tecnico tagliando questi prodotti sento un leggero odore di ammoniaca. Poi abbiamo detto c'è il vapore d'acqua, nel forno l'acqua si trasforma in buona parte in vapore e quindi aumenta il suo volume e poi ricordiamoci che i lieviti producono anche una grande quantità di alcol. Alcol che anche lui è fortemente solubile in acqua, quindi una parte rimarrà nell'acqua ma comunque l'altro ci servirà per far aumentare il volume il nostro prodotto. Dove è nata la lievitazione? Dove è nato il pane? Fino a qualche anno fa si diceva una cosa diversa. Nel 2004 un professore su un grande articolo di Nature ha dimostrato che in una zona di Israele è stato trovato dei residui che sembrano derivati da una produzione di pane e con i metodi del carbonio 14 è stato determinato un'età di 12 mila anni. Fino a qualche anno fa dicevo ci sono diversi residui archeologici come quello ad esempio raffigurato che dicono che nell'antico Egitto si raccoglieva il grano e quindi è da pensare che facessero anche del pane. Con quale lievito? Beh prendendo un pezzo della pasta del giorno precedente quindi è quello che noi chiamiamo oggi lievito madre o lievito naturale. In Scozia qualche secolo fa già si faceva il whisky, il whisky deriva dalla fermentazione di molti cereali e la fermentazione è legata dei lieviti. Questi lieviti una volta che si era sviluppato il gas non servivano più a nulla e quindi erano stati usati per fare il pane. Poi da whisky si è passati alla birra, tanto è vero che ancora oggi molti panificatori lo chiamano lievito di birra anche se oramai è qualche secolo che non si usa più. Oggi si usa dei lievi di coltura pure, sono dei sacramici e si revise isolato dai diversi produttori che hanno certe particolari caratteristiche certamente superiori a quelli del lievito naturale dal punto di vista della formazione di anidride carbonica. Ecco questa è una fotografia del lievito di panificazione, ma anche la legge italiana chiama lievito punto, quel panetti devono avere un'umidità non superiore al 25%. Nel 98, quindi non parliamo di un secolo fa, si è dato anche il permesso di fare quello che usava in tutto il mondo, la crema di lievito. Se aggiungete un 5% di acqua diventa una crema e quindi si può compare dal punto di vista della logistica industriale nettamente meglio. Quindi questo lievito compresso detto di birra o secondo la legge lievito può essere sotto la forma di lievito fresco e quindi alla durata di 3-4 settimane, ma oggi il sistema di distribuzione in Italia è tale per cui voi potete farvelo portare tutte le settimane. Poi c'è quello in crema che ha una vita più breve, proprio perché ha più acqua, diciamo un paio di settimane al massimo. Una volta se ne doveva usare, diciamo che questo qui era più concentrato, ma oggi hanno fatto sì che il rapporto di conversione uguale, per cui chi usa il lievito compresso può passare a quello in crema usando la stessa quantità. E poi ci sono dei lieviti secchi più o meno attivi che servono per dei casi particolari, per i kit per fare le torte, i kit per fare la pizza, dove lì deve durare tanto tempo, non a temperatura refrigerata e quindi siamo obbligati a usare questi lieviti secchi. E qui comincia il primo punto. Talvolta questo lievito è chiamato, io dico erroneamente, ma se ne può discutere su questo termine, lievito naturale. È un lievito chimico? No di certo. Da dove l'ho preso? Sono dei ceppi che le società hanno isolato in natura e poi hanno rimoltiplicato. Ma dal punto di vista della naturalità mi sembra che non ci sia da discutere. È il lievito naturale. Esiste una definizione legale? No. Il lievito naturale, che oggi viene chiamato più, una volta viene chiamato lievito acido, poi si è passato al lievito naturale, oggi si chiama per lo più lievito madre. Secondo questa vecchia definizione di professore di Milano, ho detto che è un impasto di cereali, anche se si può usare non cereali, lasciato a fermentare spontaneamente. Però non c'è una definizione legale. La definizione legale è solo in una legge particolare francese. Quindi ci sono una serie di prodotti, pane, grissini, crackers, fette biscottate, che se leggete la loro etichetta prevedono la parola invece che il lievito, o il lievito di birra, per intenderci, o di panificazione, o compresso, voi vedete che in un paio d'ore il prodotto ovviamente si aumenta di volume, ma se leggiamo il pH, vedete che si abbassa. Cosa vuol dire? Che acidifica, perché alla farina ci sono sempre dei latiobacilli. Allora il lievito naturale, vi dicevo, si chiamava lievito acido, perché acidificava e perché lievitava, perché aumentava il suo polore. Quindi voi capite che non essendoci la legge, sia questi prodotti che quelli fatti con il lievito madre vero, tra virgolette vero, dal punto di vista legale sono tutte e due nelle stesse condizioni. Quindi vediamo un po' qualche altra definizione. Il lievito sono cellule viventi per lo più di sacra omice cerevisie che vengono usati in panificazione, nella produzione della birra, in tanti prodotti dolci, sotto forma di lievito compresso. Il lievito naturale o acido madre sono degli impasti lasciati lievitare spontaneamente e che in genere derivano da lavorazioni precedenti. E qui compare la prima cosa. Sono impasti dove compare una doppia flora. Ci sono lieviti da una parte e lato bacilli dall'altra. Per capire la microfloria di vita naturale, bisogna guardare la farina innanzitutto. La farina ha un pH, siccome ci sono le cortine del glutine che tamponano il pH, sono sempre intorno a 6. Avendo questo un pochino di acidità, si selezionano alcuni batteri, anche se non ha una specifica microflora. Se voi prendete i salumi affettati e ne mettete contro la luce, talvolta vedete dei riflessi argenti, metallici. Questi sono gli pseudomonas, perché sono tipici di quelle carni. Noi non abbiamo dei batteri tipici delle farine. La flora che noi troviamo nelle farine dipende dall'acqua, dall'aria, dagli animali, dai sistemi di trasporto, dal suolo, cioè dalle condizioni in cui noi abbiamo pulito, trasferito, lavorato il frumento e che questi hanno causato poi questa contaminazione microbi. Quindi da una farina all'altra noi abbiamo dei grandi cambiamenti, che poi vedremo ci causano dei grossi problemi. La microflora del lievito naturale da cosa deriverà? Deriverà dalla farina e dall'ambiente dove voi lo preparate. Dopo noi cerchiamo, con i sistemi di coltivazione, cerchiamo di mantenere questa microflora costante, che non lo è affatto. E queste specie, qual è che cresceranno di più? Quelle che sono ovviamente capaci di coabitare tra di loro. Perché, per dire, quando si produce tanto acido, tanto acidità, lattico-acetico, molti sacromices non crescono, molti sacromiceti derivati dal lievito di birra non possono crescere, muoiono. Quindi la tolleranza agli acidi grassi, ma anche agli antibiotici che producono i batteri lattici. E poi, ovviamente, ci sono le fonti di carbonio e di azoto che vengono ovviamente suddivise. Quindi è un problema di competizione e di trovare delle condizioni in cui possono convivere contemporaneamente. Ma quali sono le funzioni del lievito naturale? Abbiamo detto, la prima è di far aumentare il volume il prodotto, cioè la lievitazione vera e propria. Quindi noi, da una molecola di glucosio, il nostro lievito le trasforma in due di etanolo e due di CO2. Per quello, vi dicevo, anche l'etanolo ce n'è diverso. Anche dopo cottura, una certa parte per mille lo possiamo ritrovare. E questa, diciamo, una funzione dovuta soprattutto ai lieviti. I lattobacilli cosa fanno? Dico lattobacilli perché sono quelli predominanti, ma essendo questa flora che cambia nel tempo, possiamo anche trovare degli enterococchi, dell'eoconostoc, dei pediococchi. Questi producono acidi organici, acidi che noi possiamo avvertire semplicemente col naso perché l'acido citico è molto forte, è molto volatile, quindi lo sentiamo. Produrre anche loro tanta CO2, perché si pensa che il 50% sia dovuto ai lattobacilli, ma hanno due cose essenziali. Uno, cambiare l'aroma del prodotto, ma quello più importante è il rallentamento del rafferimento, come attraverso la formazione di esopoligosaccaridi. Eso vuol dire che sono zuccheri a 6 atomi di carbonio, polisaccaridi vuol dire che prendono questi zuccheri, dal glucosio formano i destrani, dal fruttolio formano una specie di inulina, che sono poli, vuol dire delle catene lunghe di questi zuccheri. Quindi noi abbiamo, nel nostro lievito madre, un sistema veramente complesso, ma che è in continua evoluzione. Quando uno gli dice questa è la mia madre di 50 anni fa, di mio nonno, non vuol dire assolutamente che abbia presente gli stessi microrganismi, perché questi continuano a cambiare. È stato bravo di non farla morire e di farla durare per tanto tempo, ma sarà matematicamente diversa da quella di suo padre o di sua nonna. Quindi il ruolo dei batteri lattici qual è? Formare degli acidi, in particolare il lattico e l'acetico. Noi sentiamo tanto l'acetico, perché è molto volatil, ma in realtà c'è molto più lattico. Da un'altra parte abbiamo un'attività proteolitica che, più che spaccare magari i gluti o altre cose, come uno può pensare così inizialmente, quello che a noi serve è una serie di aminoacidi che possono poi stimolare la crescita dei lieviti. questi sono quelli importanti. Poi abbiamo veduto una reazione di composti aromatici, ma soprattutto la produzione di esopoligosaccaridi che fanno o non fanno indurire il prodotto per lungo tempo. Il lievito naturale che cos'è? È un processo dove ogni giorno noi lo rinfreschiamo con delle nuove farine e quelle specie che sono più veloci ad adattarsi hanno il sopravvento. Ed è per questo che non essendo costante la flora della farina abbiamo una non costanza del nostro lievito naturale. Vi dicevo ogni giorno noi lo rinfreschiamo. Rinfreschiare vuol dire prendere per dire un chilo di lievito naturale di ieri e metterlo, unirlo a due chili di farina, un chilo d'acqua, mescolarlo per rinfrescarlo. In questo modo noi cosa facciamo? Facciamo che i microrganismi si risviluppino, continuino a svilupparsi perché quando io lo lascio una notte a riposare loro hanno raggiunto un certo plateau e non si riproducono più. Quindi in questo caso noi abbiamo un continuo ringiovinamento della nostra flora presente. Quindi se la madre è quella ovale verde, poi vedremo nella sua forma pratica di conservazione, cos'è che influisce sul lievito madre? Ci sono dei parametri che noi fatichiamo a regolarli perché sono il contenuto delle farine, nei sali minerali che le contengono, nei carboidrati, nelle vitamine, nei microrganismi che si portano dietro ogni giorno e che non sono mai costanti. Quindi questi sono fattori interni, endogene cereali che non possiamo tanto influenzare. Dall'altra parte abbiamo dei parametri di processo, questi sì, possiamo regolare la temperatura, possiamo legare il nostro prodotto dentro un sacco e quindi renderlo diciamo in condizioni anaerobiotiche, possiamo allungare i tempi di fermentazione, fare diversi rinfreschi o un numero minore. Quindi i parametri di processo lo possiamo ritoccare. dobbiamo sempre dimenticare che all'interno della nostra madre abbiamo i batteri lattici, attenzione, che possono produrre degli antibiotici, ma si possono infiltrare anche dei fagi che sono altri che il virus e il lattobacilli e quindi il tutto perde la sua attività. Poi abbiamo i lieviti, ma attenzione, se noi mettessimo una farina sterile avremmo solo quei due lì, ma il prodotto diventerebbe acido nel giro di dieci minuti. Noi abbiamo al nostro interno della madre tutta un'altra serie di batteri, enterobatteri, sporiforme, eccetera, che competono con gli altri due e quindi dopo un certo tempo raggiungono più o meno una specie di equilibrio nel loro sviluppo. La frase sulla destra è quella che dovete scolpirvi nella testa. Ogni madre, ogni lievito madre è un unicum che porta caratteristiche differenti e che ognuno, cioè quello di oggi non è uguale a quello di umani. Chiaro che se faccio la stessa farina e lo mescolo nella stessa impastatrice più o meno sarà uguale, ma più o meno non sarà mai esattamente uguale. Come facciamo a controllare il nostro lievito? Se noi mettiamo 800 grammi del nostro impasto dentro un cilindro da due litri, noi possiamo misurare in quanto tempo, o dopo quanto tempo si sviluppa, si raddoppia, no? Spesso nei libri trovate che l'impasto nel litro madre triplica il suo volume, magari l'ho scritto anch'io. Quando sono andato a misurarlo vi assicuro che più di due volte e mezza non va mai. Però diciamo con questo metodo potete anche scrivere un numero sul suo sviluppo. L'altro sistema di controllo è la determinazione del pH che è abbastanza semplice e la determinazione dell'acidità, cioè quanti cc di soda, normal decimo, ci servono per neutralizzare l'acidità. Se avessimo un acido solo basterebbe il pH, ma qui abbiamo due acidi, o anche di più, con una forza diversa e quindi ovviamente siamo obbligati a misurare sia il pH che l'acidità. Vediamo dei numeri. Allora, il lievito madre ha un pH intorno a 4 e un'acidità così misurata intorno a 5 cc e in freschi ovviamente in un valore minore, ma lo sviluppo, vedete, da 800 deve andare almeno due volte a 1600. Poi talvolta potete fare delle conti. Attenzione che un conto è contare i latobacilli dello yogurt, dei formaggi e un conto è misurare quello di questi impasti. Per questi impasti ci vuole questo terreno di Suryara che è un tecnico americano, giapponese, ma che è sempre vissuto in America e che ha messo a punto questo metodo che dà il numero massimo di conti. Perché siamo obbligati a misurare il pH che ci dà più un po'? Proprio perché è un metodo con una fermentazione spontanea e quindi abbiamo questa variabilità enorme che fatichiamo a controllare. Se andiamo a misurare, questo è un esempio, ma più o meno rispecchia sempre quello che avviene negli impasti, voi vedete che se abbiamo un impasto e andate a misurare il pH, vedete che in circa 4 ore è sceso di un certo valore e poi praticamente è arrivato quasi a un plateau. quindi vedete che è tra 4 e 6 ore che abbiamo l'aumento logaritmico del numero di lattobacilli e di gli enti e poi si ha un plateau. Quindi è in questa prima fase, noi spesso facciamo impasti e infreschi di 4 ore perché è sicuramente la fase più ovviamente di crescita esponenziale, di crescita logaritmica. Ma vediamo il numero dei microrganismi. Nel lievito madre abbiamo circa 100 milioni per grammo e abbiamo un miliardo di lattobacilli. Quindi quando voi prendete un pezzetto di pasta avete più batteri dentro lì che tutti gli abitanti della terra. Abbiamo un numero spaventoso di microrganismi ma che sono di diverso tipo, che sono in competizione gli uni agli altri. Se guardiamo le acidità, vi dicevo prima, quello che voi sentite al naso è l'acido acidico ma che è in minore quantità rispetto al levo e destro lattico. Ma che tipi di microrganismi abbiamo? Vedete, nei lieviti lì ce ne è elencati un certo numero, però sotto c'è un'altra freccia e vi dico, quelli che più facilmente trovate è il Sacromice Cerevisiae e il Sacromice Sigus. Nei batteri sono sempre molto di più e c'è una variabilità maggiori. Quindi c'è il San Francisensis, il Pontis che cresce a temperature elevate perché in Italia io non l'ho mai trovato, il Plantaros, il Brevis e così via. Ecco, questo è un lavoro di un tedesco dell'istituto di Beccarei tedesco di Deltmol. Ecco, lui ha preso, vedete, otto madri e è andato a vedere che batteri e lieviti c'erano. Vedete che non c'è una madre uguale, non c'è una madre uguale, non solo, ma vedete ha diviso gli omofermentanti tra il lato bacilli e gli eterofermentanti. Gli eterofermentanti sono quelli che producono sia lattico che acetico, gli omo soprattutto l'acido lattico. Allora, voi capite che quel giorno che avete più Brevis avrete anche acido acetico, quel giorno che avrete più Plantaros avrete quasi esclusivamente l'acido lattico. Quindi capite come il sistema è veramente complesso. Ma qui mi dispiace di non ricordarvi il nome di questo ricercatore tedesco che qualche anno fa finalmente ha dato una dimostrazione scientifica di cosa avviene in una madre. Lui ha preso una madre e l'ha seguita per dieci giorni in un ambiente super controllato di temperatura, umidità, con lo stesso sacco di farina, tutto uguale. E attraverso dei metodi di ovviamente biologia molecolare è andato a vedere quali microrganismi ci fossero dentro al tempo zero e dopo da uno a tre e dieci giorni. Ma vedete come cambia, no? E lui ha tenuto il massimo della costanza, cosa che noi in fabbrica non possiamo neanche fare. Vedete, il primo giorno c'era il midensensis che poi è sparito, poi è arrivato il pontis che non c'era prima, il san francisensi al cinque giorno scompare anche lui, al quinto giorno compuare il crispato tra i lattici. E lo stesso vale per i lieviti. Vedete che è una roba, come curiosità vedete quella E che è la decchiera. La decchiera dà un aroma di frutta. Una volta in una fabbrica di Milano, mi ricordo che sono entrato e ho sentito un profumo di pesca. Ma cosa è capitato? Niente, niente, non so. Comunque purtroppo il giorno dopo è scomparsa, proprio perché non ha le condizioni ottimali per crescere. Comunque in quel momento lì era cresciuta. Quindi questa è la dimostrazione della non costanza di quello che noi abbiamo tra le mani e che chiamiamo lievito naturale. Vedete perché c'è questa variazione oltre all'inquinamento che ci portiamo dietro dalla farina? Vedete che noi diciamo abbiamo le stesse temperature. Ma vedete come l'ottimo del san francisensi è il 32, il pontis è 42, l'humilis è 26. Basta che voi arriviate un impasto che aumenta un grado 2 e tendenzialmente si svilupperà più pontis e meno l'humilis e viceversa. Quindi effettivamente è un insieme che per forza di cosa continua a cambiare. Qualche d'uno è andato a vedere cos'è che producevano questi microrganismi, perché qualche d'uno sosteneva che il lievito naturale non permetteva la crescita dei demuffe nei microrganismi. In effetti tutti gli acidi tendono a calmare la formazione dei demuffe e in particolare il fenillattato. Però non fidatevi perché sì, se fate un panettone e lo vendete in 15 giorni magari non crescerà nessuna muffa, ma certamente lo è a rischio e quindi è meglio non fidarvi di questi composti che comunque ci sono nel lievito naturale. Vi dicevo i latobacilli sono numerosi, nel caso dei lieviti vedete nell'80% dei casi c'è un solo lievito contemporaneamente, nel 17 quindi è 2 e poi c'è una piccola parte con 3 specie. Nel 91% dei casi è sacromicia cerevisia, ma non è lo stesso ceppo del lievito compresso di panificazione perché quello non resisterebbe ovviamente all'acidità prodotta dal nostro lievito madre.